L'ho già detto a qualche parte, però guarda. Non mi ricordo se l'abbiamo detto, forse per noi è normale. Ma era sempre fra, non c'era mai, non mi ricordo mai in un faretto. Siamo che io sto cercando di fare la musica, insomma, a delle parole belle, però il problema è che non ci riusciamo a incontrare, perché lui è molto impegnato, io sto impegnato dall'altra parte. E allora non ti si chiede, adesso abbiamo dato l'occasione, questa intervista, l'occasione per finire questa canzone finalmente, che è quasi un anno che non la riusciamo a finire. Io come cantante non volevo essere pieno da niente, ma lo dico senza mai guardare altre persone in questo momento, per poterlo dire ed essere creduto. Ma vabbè, pare che tu vuol dire che ho sto qui, però diciamo che a te ti piacciono quei cantanti. La mia realizzazione in musica, se io fossi cantante, è lui, io la giudice sinceramente. Forse lui invece no, lui vorrebbe essere Bruce Lee invece, come a tu. Ma tu sai come mi piace Zorro, però come attore è chiaro che io mi rivedo molto in quello che fai tu, perché già sapete... E quello che faccio, ma a te ti piacessi di fare però Bruce Lee? No, Bruce Lee è perché è piccoli, io sono... Vabbè, uno tipo Bruce Lee, Zorro, invece io proprio lui, proprio un uomo, con la chitarra, con gli stessi arrangiamenti, stessi cosa, tutto. Io ho scritto questa canzone, si chiama, o sai come fa il cuore? O sai come fa il cuore? Cazzo boccio, ma si, mi lo dici. Che bello sto male, guarda. Sente? Stile Pino Daniele, però... È finito? È strano questi ritmi... Ma non è male, è bello, è contento, è bello. Ci mancano, ci mancano parecchie cose, però già... Ma tu hai fatto solo che se no? No, ma sto facendo altre cose. Che là, che là da là li fatti? Che là... No, perché aspetto te che mi dai l'ok per dire quale è meglio, dobbiamo vedersi un attimo e te. No, ma no, aspetta un attimo, no, 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 io sto facendo, ma te... Lo so, perché oggi dobbiamo vedere via e te con la... Ho bisogno di te ancora, per dirti che ti odio ancora, non dimmi quando... Quando faccio la guanda cantata, faccio dire che se non sia un ragazzo. Ma i fatti è così, così... Eh? Ma io se... Ho bisogno di te ancora, per dirti che ti odio ancora, non dimmi quando... Tutto il giorno per vederti ballare, fra i ricordi di una vita, l'ormone in paradiso, che forse esiste, che vuole un figlio o non esiste, vederti... Gli chiedono che quando avevi cacciato, se tu pensavi, per vederti andare via, non hai mai fatto così? In fin di conto, la parità è che? Invece di ballare, mi ricordo, se la casa c'è, per vedere... Allora, mi fai, si vivrò tutto il tempo per vederti, per vederti andare via, fra i ricordi di una vita, l'ormone in paradiso, che forse esiste, ti vuole un figlio o non esiste... Vabbè, ma che voglio che la cosa l'hai andata via, ma secondo me tu l'hai fatta già così là, andata via, perché io la cantavo così quando la gesto andò... Io non ci metto via, perché è una cosa che sentimela, come del resto qua quando fa... Tu dimmi quando, quando ho bisogno di te ancora un'ora, per dirti che ti odio ancora, tu dimmi quando, quando... Con lui è un fatto strano, lo so, sembra ovvio, banale, scontato, come diciamo, guarda come vivono da morire d'accordo, invece no, noi è proprio così, torniamo insieme là, Abbiamo visto una stanza... Dopo giriamo e facciamo vedere la stanza che lui c'è il buco più pesante... Più pesante perché sì... Ma ci troviamo sempre, che ti capisci, allora sto facendo questo film, poi te lo spiego, prima di spiegare, lui dice, sto scrivendo delle canzoni, mi porta e sto... Un film e una canzone nello stesso... Infatti questo è strano... Noi viviamo, come dice io prima, nello stesso periodo rosa, il periodo... Altissimo periodo roso, il periodo dell'amore... Lui si è trovato a scrivere canzoni sull'amore, io a fare un film sull'amore... No, ma, mo scherzi a parte... No, ok... No, fatti qui è la verità... Infatti... Cioè, io penso che... Però non ci credono, capisci? No... Uno dice seriamente... Dice sì, vabbè, ma perché... Guarda a casa si trovano proprio sempre loro quando nel... Che, che, che... Io penso che è pure un fatto di creatività, di creatività... Ma perché c'è questa sintonia musicale, sintonia artistica... Ma di più, di più... Forse una società editoriale... Una sintonia di vita... Mentre il Saffolmina vive... Dei momenti suoi che dice... Ma guarda, oggi... Oggi sono stanco, no? Oggi ho sentito una schifezza... Ma come i gemelli... Che ognuno sente l'altro... Io dalla casa di una risa e dico... Mamma mia, come sono stanco... Mi chiamami... Ma... Io non mi ha trovato perché rimango alla casa che sono stanco... E lui mi diceva no, a me... Io non mi ha trovato perché mi sento stanco... Quando invece... Uno si sveglia... E c'è l'altro... Uno lo sente bene... Lui si sveglia... E infatti ci incontreremo a metà strada... Tra Formio e Roma... Perché... Meno male... Meno male... Meno male... Ma come si fosse un gemelli... Ma per esempio... I gatti possono pure dire... Ma guarda, quando fanno schife a dire... Quando si vogliono bene... Io sono contento... Io sono contento... Sai perché? Perché è la prima volta che io e te siamo a Napoli... Esatto... A Borgo Marinaro... Dopo tutti gli anni che ci conosciamo... È la prima volta che siamo qui... Il balcone... Borgo Marinaro... Le spalle... Grazie a Anna... Praterio... Che ci ha portato qua... Questo è un fatto... Questo è un fatto positivo... E quarta notte... Miezo qua... E la sigaretta... Il mondo è sano... E non mi sposte... Resta sotto a guardare... Da 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 da... Voglio male... Ma chi fa bene... E chi fa male... Che... Che vuoi vedere la casa? Quale casa? Quale casa? Siamo a noi... E tu al dai... Il primo tempo... All'occhio... E si innamorano... Già... Se la fa... Tanno il suo cuore... A me... A me... O sai come il suo cuore... A me... A me... Quando si è innamorata... Mmm... 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 Che soddisfazione... C'è la prima cosa... Canto vino Danilo... Non mai... Satisfazione... Dai... Però... Quella volta... Che ci siamo conosciuti... Era... Era... Una trasmissione... Una trasmissione... Noi si chiamavano... No Stop... E quindi siamo conosciuti là... Poi la nostra amicizia è nata così... Insomma... 12-16 anni fa... Si... Non so... Per 77... Siamo visti là... In primo momento... Abbiamo fatto un paio di serate insieme... Siamo andati a Montecarlo... Montecarlo insieme... No a giocare però... No no... Una serata... Una serata... Sì... Poi siamo visti a Portici... A San Giorgio... A San Giorgio... A San Giorgio... San Giorgio... Altre volte... Tutti i poti siamo visti... Pure da me è venuta a mangiare buono... La casa mia... Lì è venuta a mangiare... Abbiamo... Abbiamo... Quando lui ha fatto il primo film... Ha detto... Pino... Che dici... Sei capace di fare questa cosa... E poi... Era un po' scettico... Lui veramente non voleva... Però... Io... Sono arrivato... Se non sei capace... Dimmelo... Non fa niente... Fai dei provini... Ti ricordi? Fai prima le musiche... Poi vediamo... Senza... Che vuol dire... Poi siccome io teniamo famiglia... Dovevo mangiare... Cioè non poteva... Era un periodo anche brutto per me... Lui ha detto... Vabbè... Questo ragazzo... Lo aiutiamo... Facciamoli fare un po'... E ha detto... Vabbè... E' uscita questa musica... Vabbè... Vabbè... Facciamo? Allora... Che? Partito... Partito... Le tue mani... Ed il tuo naso... Verso un giorno disperato... Ma io ho sete... Ho sete ancora... Tu dimmi quando... Quando... Non guardarmi adesso amore... Sono stanco... Perché penso al futuro... Tu dimmi quando... Quando... Tu dimmi quando.... Tu dimmi quando... Quando... Quando dirlo d'amore... Ma io ho sete... Ho sete ancora... Mmmmmmm... E vivrò... Si... Vivrò... Tutto il giorno... Per vederti ballare... fra i ricordi di una vita normale e il paradiso che forse esiste, chi vuole un figlio non insiste e poi vediamo di finirlo ho bisogno di te ancora per dirti che ti amo devo dire che siamo molto contento ma andremo avanti infatti noi potremmo anche non fare film, non fare musica, non fare niente come fare? che ci non vuole? noi fatti divertire, cantare ah proprio questo lì però lo film non mi fa ogni tanto si ma se uno lo fa non è che succede, capite? però è una commedia però quando poi si lavora per il gusto di continuare a stare insieme e per la qualità delle cose che si fanno, che fa tu però ogni tanto dici che fanno anche lui ma tu non mi fai parlare dici che cosa fanno, capite? ma come faccio fanno? tu sai che è una cosa importante questa la qualità delle cose che lui fa e tu hai capito? e la qualità delle cose che fanno scusa ma perché i film che fai tu vabbè noi ci vediamo riparlano della storia che hai prima ormai con una musica 2 Pino una musica 2 è ormai già io consiglierei di chiuderla ok Grazie a tutti.